vediamo chi... oh si questo questo mi piace molto veloce dai ok ando per me a qualsiasi posto va bene ok round one fight merda merda perchè figa non riesco a fare nessuna combo con questo niente figa ma niente ma perchè porca puttana figa figa salta zio porco ah si il buon dolore era previsto ahahahah round two fight che è arrivata 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 argue stai ma sono fattato che Ah che c**tana fia! Ah! Mi ha colpito! Ah vaffanculo! Che cazzo! Vai! Final round, fight! Ah! 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 Ok, ok, ok. no no niente ah questo non è andato male